Chavier Dolan non credo si pronunci così ma se non altro lo si presenta in modo fascinoso è una persona alquanto invidiabile secondo me perché vedete ha all'attivo 5 film ognuno dei quali ha vinto qualche premio in giro per il mondo tra la Francia e l'Australia e ha 25 anni sarà anche figlio d'arte fin quanto volete dicono reciti dall'età di 4 anni però per arrivare a certi livelli così giovane bisogna avere talento, punto e bisogna essere dotati anche di un certo grado di intraprendenza visto che il film di cui sto per parlarvi ha la direzione, il soggetto, la sceneggiatura il montaggio, i costumi e la scenografia curati tutti da una stessa persona dimenticavo è anche prodotto ultimamente stanno demolendo un po' di cose nei paraggi va bene non fatevi distrarre anche stavolta e siccome siamo di fronte a una figura nella quale ha senso riporre fiducia per il cinema dell'avvenire dobbiamo sottolineare che Mommy è il primo film di Dolan distribuito in Italia non credo servano ulteriori commenti a riguardo uno dei grandi pregi di quest'opera è che cerca di essere sincera e ci riesce abbiamo già accennato al fatto che spesso alcune produzioni tentano di essere ciò che non sono qui non accade ok? Dolan ha stile non solo a stile ma come ho appena detto tenta di rendere proprio ogni particolare del film e questo vuol dire fuggire il prefabbricato torniamo a una dimensione di artigianato molto apprezzabile non sono necessari quindi grandi cast bastano una madre Diane una madre dal look e dal linguaggio aggressivo con scarsa capacità di autocontrollo ma con tanta voglia di rifarsi una vita assieme al figlio Steve che ha gli stessi problemi della madre ma molto più accentuati si dice che sia affetto da sindrome di deficit di attenzione e iperattività in questo suo problema lo aiuterà una vicina di casa che è l'opposto è remissiva è balbuziente e carina ci sono poi solo altre due tre figure di contorno molto più trascurabili questo vuol dire concentrarsi sui caratteri tirar fuori da loro tutto ciò che si può o meglio tutto quello che si vuole tirar fuori perché vedete una critica che si può muovere ma non è detto che sia del tutto legittima è che non tutto è spiegato con minuziosità tanti aspetti tanti particolari delle storie o dei passati o delle vite di questi personaggi sono lasciati un po' all'immaginazione dello spettatore però tenendo conto che il film ha anche una certa durata e un suo sviluppo forse questo livellamento non è poi così dispersabile abbiamo molti elementi in questo film elementi affrontati con una certa forza fin dall'inizio ci vediamo sbattuti in faccia certe peculiarità adolescenziali che per altri film potrebbero essere dei tabù non si bada a riserve questo scontro confronto tra madre e figlio è giocato tirando in ballo un rapporto di amore e odio alquanto singolare Gabriele Niola ancora una volta acutamente notava che non si può confrontare direttamente mommy con un qualsiasi altro film già girato e questa è una constatazione lusinghiera l'originalità non è un fattore trascurabile oggigiorno assolutamente nonostante il tema dell'irraggiungibilità della felicità a causa delle avversità della vita sia stato affrontato decine e decine di volte che dico centinaia ma qui lo si fa in maniera diversa con un tocco artistico di pregio intanto lo si fa senza cliché allo spettatore è lasciata la facoltà di scoprire come certi aspetti che soprattutto verso l'inizio del film possono sembrare divertenti buffoneschi in realtà sono alquanto seri drammatici da tragedia volendo ma senza ripeto che questo loro perché sia troppo esplicato e lo sviluppo della vicenda è accompagnato da numerose felici intuizioni grafiche a partire dal formato col quale viene presentato il film noi siamo abituati al 16 noni benissimo qua non abbiamo il 4 terzi che era il formato prevalente prima che arrivasse il 16 noni ma addirittura un formato che si avvicina ancora di più all'1 a 1 e Miola l'ha definito una gabbia e ha ragione perché noi siamo costretti a vedere per gran parte del tempo un personaggio alla volta questo sottolinea anche l'iniziale distacco tra queste figure come la loro vita li renda succubi di queste pareti che schiacciano la loro esistenza che vorrebbe essere più grande più libera ecco il protagonista urla spesso libertà e quando la urla e beh no non vi voglio dire che succede perché è straordinario è come se si andasse incontro a una boccata d'aria fresca tutto ciò non è banale perché è riflettere con la qualità delle immagini gli stati d'animo dei personaggi non è da poco anzi potremmo dire che solo i grandi autori lo sanno fare penso alla capacità della fotografia in questo caso di adattarsi introducendo diversi filtri all'emotività delle situazioni penso ai giochi con il fuori fuoco stupendi accipicchia penso ai numerosi rallentati e alla composizione scenica delle inquadrature quando curi con così tanta attenzione ogni minuto di un film vuol dire che ti sta veramente a cuore e che non sei un semplice soldato agli ordini delle case di produzione vuol dire anzi che c'è della sensibilità e che verrà sviluppata ne sono convinto ancora di più negli anni a venire e a proposito di sensibilità concludiamo con la consueta parentesi sui premi bene Mommi ha vinto il premio della giuria al festival di canon 2014 ma calma ex aequo con adieu au langage di Jean-Luc Godard Godard è uno dei giganti del cinema è ancora vivo e continua a fare capolavori quindi a 25 anni a essere accostato a un gigante caspita veramente vuol dire che vuol dire che il tuo talento è compreso è una buona notizia e poi è stato nominato anche alla palma d'oro proprio che è andata al regno d'inverno e ci inchiniamo di fronte alla grandezza di un tale film spero molto che anche gli americani siano sensibili appunto ad una tale qualità e ad una tale innovazione c'è un sacco di gente che vuole smontare chi osa parlare di innovazione riguardo ad un film ragazzi ma allora che cos'è per voi innovazione quando arriverà la nuova innovazione eh un po' di sana originalità non guasta a nessuno ed è inevitabile che vengano riproposti certi schemi certi topoi per usare un termine aulico che sono già stati affrontati volte e volte in tutta la storia del cinema e ma caspita non finite come molti di loro che non si godono più il cinema secondo me mommy merita davvero la vostra attenzione ve lo assicuro io come penso meritino la vostra attenzione i prossimi film di cui si parlerà nel taccuino del giovane cinefilo date uno sguardo alla mia pagina facebook grazie e alla prossima grazie a tutti